Tra Teramo e Monza il risultato è tutto in pochi secondi. Un gol per parte che sintetizza una partita giocata con intensità su entrambi i fronti. Ospiti molto determinati nel primo tempo, la squadra di Brocchi dava la sensazione di poter passare in vantaggio da un momento all'altro. Il Teramo ha resistito con ordine, senza disunirsi, riuscendo mano a mano a prendere le misure e anche a proporsi in avanti. Inerzia capovolta nella ripresa e la squadra di Maurizia a comandare il gioco e a raccogliere i frutti con Infantino nell'azione più bella della gara, anche se la festa dura un battito di ciglia, visto che il neoentrato Ceccarelli, ex Virtus Lanciano, pareggia dopo meno di un minuto, strozzando un po' la gioia del Teramo e di Infantino al secondo gol stagionale, il primo su azione. Gran merito anche da parte di Ventola, no? Sì, certamente. Ventola ha messo una grande palla e meno male sono riuscito a fare gol e abbiamo sbloccato la partita e sono sbloccato anche io su azione. Diavolo senza il lungo De Genticelli e Speranza, oltre a Zecca, con il recupero di Viacentini per la panchina, la conferma della coppia offensiva Infantino-Sparacello. Sul fronte Brianzolo, Mr. Brocchi rinuncia all'indisponibile Briganti e conferma una squadra votata all'attacco, optando per Chirico a dare manforte al tandem d'attacco Marchi Reginaldo. A centrocampo, Palazzi, ex Pescara, come metronomo al posto di Galli. L'arbitro è clerico di Torino, direzione che non ha convinto soprattutto per la gestione dei cartellini. Quattro gialli, tutti di colore bianco-rosso, con quello pesante di Proietti che salterà sabato la trasferta di Ravenna. Le immagini salienti, quarto minuto, Monza subito pericoloso con Reginaldo, il giocatore controlla in area un pallone, si gira e conclude, Gomis para a terra. Dodicesimo, ancora Monza, con una ripartenza dal limite, conclude Marchi, sfera al lato di un soffio. Il Teramo fa fatica, ma si vede al ventesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce Caidi, ma la sfera si alza sulla traversa. Il Teramo insiste, ventinovesimo, Ventola si mette in proprio, il giocatore avanza, conclude, buona la potenza, non la mira. È un buon momento dei padroni di casa, che provano ancora a pungere, sempre con Ventola, peraltro senza fortuna. L'ex Pescara è di nuovo protagonista al trentasettesimo, stavolta nella sua area. Il tocco all'indietro per poco non beffa Gomis, molto reattivo ad alzare in calcio d'angolo. Per farsi perdonare, il giocatore imprendibile sulla fascia destra, conclude da buona posizione, costringendo l'estremo Brianzolo alla deviazione in corner. Prima del duplice fischio proteste Teramane per una ostruzione in piena aree, indovinate su chi. Ventola supera il suo avversario, che con grande mestiere l'ostacola, suscitando solo le ere del pubblico. Con le immagini siamo al secondo tempo. Dopo un buon inizio del Monza, che prova a far male, il Teramo guadagna campo e inizia a gettare pallone in mezzo per la testa di Infantino. In quest'azione il numero 7 bianco-rosso non arriva per un soffio. L'occasione buona arriva invece poco dopo, al 34esimo, traversone tagliato di ventola e inserimento perfetto di Infantino, che vale l'1-0. Una frustata per il Monza, che comunque pareggia nel giro di pochi secondi, col Ceccarelli appena entrato. Il giocatore non trova resistenza e piazza la palla, dove Gomis non può proprio arrivare. C'è tempo per vincerla, ma le forze iniziano a venir meno. E così al Biondi, Teramo-Monza termina 1-1. Dopo dobbiamo ancora migliorare questo aspetto, nel senso che passare in vantaggio, un piccolo caldo di attenzione, abbiamo preso l'uno pari, va bene, però credo che sia stato un buon Teramo. Possiamo leggerla così, comunque una prova d'orgoglio da parte dei suoi. Sì, giusto, proprio così, una grande prova d'orgoglio. Abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo prodotto, come spesso succede, voglio dire, però adesso, giocando così, credo che possiamo sicuramente andare a affrontare il futuro con più ottimismo, anche se poi bisogna stare attenti che bisogna stare attenti. Noi dobbiamo avere cali di attenzione. Prima della partita magari un pareggio ci poteva stare contro una delle corazzate del girone, però essere passati in vantaggio magari poteva esserci anche il colpo, non il colpaccio. Purtroppo dobbiamo ancora migliorare questo aspetto, nel senso che passare in vantaggio, un piccolo caldo di attenzione, abbiamo preso l'uno pari, va bene, però credo che sia stato un buon Teramo. Possiamo leggerla così, comunque una prova d'orgoglio da parte dei suoi. Sì, giusto, proprio così, una grande prova d'orgoglio. Penso che il primo tempo sia stato giocato molto bene, di buona qualità, e invece il secondo tempo poi è diventata una partita sporca, una partita di quelle dove si andava sui duelli, dove si andava su queste palle lunghe, sulle seconde palle, lì abbiamo un po' sofferto, però io penso che abbiamo comunque tenuto botta, giocando magari in maniera diversa rispetto al primo tempo, però insomma è stata una buona partita. Avete incassato il gol del Teramo, quando mancavano 9-10 minuti, la reazione c'è stata subito e questo forse è l'aspetto più importante per un tecnico? Assolutamente sì, perché vuol dire che nonostante un episodio sfavorevole, abbiamo reagito subito con grande forza, grande vehemenza e abbiamo trovato un gol di ottima caratura. Secondo me dobbiamo lavorare un po' sulla testa di tutti noi e dobbiamo prendere più una mentalità vincente, nel senso di quando dobbiamo fare gol e dobbiamo rinviarli gli avversari, non devono manco per un tiro in porta, dobbiamo lavorarci perché abbiamo avuto troppi punti, dobbiamo raggiungere l'obiettivo della salvezza in prima possibile per torcerci anche altre soddisfazioni. Il gol lo ha messo a segno Infantino, però tu sei stato l'ispiratore. Sì, sì, sono contento del gol di Saveriano, sono contento che ho fatto l'assist e spero solo di ripetermi in qualche altra partita per togliere anche qualche soddisfazione a Saveriano perché è un attaccante veramente forte e ci può dare una grandissima mano. Come spieghi questo primo tempo da parte vostra un po' tra virgolette timido, forse il Monza ha provato subito a pungere? Ma i primi minuti sì, loro hanno preso un pochetto più campo, dopo noi comunque dopo i primi dieci minuti abbiamo iniziato a prendere misure, a giocare, penso che abbiamo espresso un buon calcio e dobbiamo continuare su questa strada perché siamo un'ottima squadra, ci manca veramente qualcosina per essere perfetti perché veramente siamo forti e c'è tanto rammarico per questo pareggio, tanto. Un mattoncino importante per la salvezza, però da qui in avanti bisogna cercare anche di vincere, i tre punti sono fondamentali, no? Assolutamente sì, infatti dobbiamo andare sabato, già a Ravenna, con la mentalità giusta per strappare i tre punti e per arrivare alla salvezza il prima possibile. Prima Ventola, che è stato qui insieme a noi intervistato, ha detto che il Teramo è una squadra forte, però manca qualcosina, deve dimostrare che cosa ancora a Saveriano? Per me il Teramo è una squadra forte, deve dimostrare sotto l'aspetto, forse è brutto dirlo, della furbizia, come posso dire, siamo un po' smaliziati, dobbiamo crescere un po' sotto questo aspetto e essere veramente più furbi.